e magari si potrebbe potenziale lì che scherma i danni questo forse questo recupero il ki che è anche questo sarebbe interessante questo è tutto questo è tutto questo è una protezione ah è già al massimo ah si 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 costa 8 o 5 e al massimo si possono fare 4 comunque ok niente allora se quelli sono già al massimo semmai anche questi bisogna provare magari a maxare così costano di meno farle due e ci sono ancora questi qui ma che altro questo però veramente quello è uno dei più utili in assoluto vabbè niente dai vendo faccio qua metto in pausa di nuovo e vendo abbiamo guardato appunto l'equip eccoci ho venduto un bel po' di roba e ho usato tutte le p3 dell'animas quindi siamo usciti a fare dietro un livello la portiamo a 50 questo poi ci penserò in realtà si potrebbe anche vedere di per non seguire questi qui poi proprio guardare se c'era uno buono vedremo poi diciamo che è chiuso non c'è un cristallo non c'è non c'è un cristallo non c'è un cristallo Oh, no. ma che cazzo da hanno Ma che porco dici Vuoi provare a affrontarmi una tifana E tra l'altro non è qua Ho visto, l'ho visto Che fantasia Boss, dietro boss Già non è il primo livello Che Ha offerto questa Questa leccornia Ma che cazzo vuol dire Ma Questa roba No Wow La rumore è come se si fosse modificato qualcosa Poi non so Mi spiace che non abbiano fatto Le pareti gireglie Non abbiamo mai visto neanche uno Magari ha cambiato qualcosa Quella del carro La tizia del quadro In teoria Speriamo di essere anche attrezzati No Mi spiace che non abbiano fatto No No Sì ma ah o no, torbiamo un po'cce sposti No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, qui dove siamo venuti, quindi qui era aperto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah ah non c'è ah i giusti Grazie. questo perché ci abbia visto e sentito non c'è solo lui, non credo Non so cosa faccio, ma vabbè. Com'è che sei già morto? Cos'è stato? Non scherzo? Non so cosa faccio, ma vabbè. Non so cosa faccio, ma vabbè. Che va in cerca di funghi? Non so cosa faccio. Oh, facciamo una prova e non siamo fullati. Ma cos'è quest'arma qui? Che fa male, no? C'era l'altro. Questo non ha mai messo un attacco tipo quello che ha la tonfa. Ho principalmente messo passiva, quello me lo ricordo bene. Cos'è che c'ha? E' in guardia. Cosa sarebbe il danno da presa? Ah, ma la presa quando la fai? Non ha, non mi sembra che abbia... Ah, se mi interessano fino a un certo punto... Ah, c'è questo. Il chiedi un livello quando usi cambio, impugnatura, punizione e taglio rama. Beh, immagino che intenda alta e bassa è... Punizione sarà quella alta? Il taglio con la bassa, ma perché in quell'ordine? Boh, è uno. C'è qualcosa di interessante? Beh, potrebbe essere... No, tre! Cavolo! Ho avuto fretta. Perché non lo fa? Ah, ok. Non è... Spero di non vederla mai in realtà perché non era il massimo. Vabbè, fino a stare un attimo. La musica è quella. Vediamo com'è. Abbiamo un po' di cose da... prendere. ... Non ho capito che non ho capito. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Ti presento la mia nuova嫁. Bella. Ma per me ancora non lo affrontiamo, Bobo. Quanto pare Che è sta cosa Un altro mostro di alto Vieni come faccio a affrontare Se sei alto E se mi fai un mannequin Come faccio a guardare dietro e dappertutto Cazzo C'è già rallentato Si può ribattere Cazzo Ah quindi come cazzo facciamo attaccarti, non mi hai capito. Beh se non ti abbassi... No, nonchiala, speriamo che la riguarda. Sì, non c'è, non c'è, non c'è, non cazzo no. Ah, non c'è arrivato lo stesso. E' elegantissimo con quei denti lì. Ah, ce l'abbiamo sti cazzo lì? C'è qui o... C'è qui non? Non, non. Ah beh adesso sono in fase di spiglio. Curateee! C'è anche qua adesso. C'è anche qua, non c'è, non c'è, non c'è. C'è anche qua. Eh non è che ho gli occhi dappertutto Cazzo Ma ti alz Oppa diventi impazienza Eh non no anche gentile ritornato sto pensando che la multipli elementi questo la ghiaccia l'acqua c'è la lancia al fuoco anche se i danni maggiori se meno da me riceviamo anche da quello però i danni maggiori danni maggiori lo fa quello fisico però appunto non fa ma non fanno male anche gli altri in realtà magari si potrebbe mettere su cose difensive per esempio con talisman contro la scherma acqua scherma fuoco e anche l'elettricità volendo e minana e basta robu non riconfigurare tutto il schema funghi e se ne abbiamo anche quello schermaco se ne abbiamo scopo sono principalmente quelle poi magari acqua talismana protezione insieme a tutti si ma non ci facciamo e non è rilacciare per il fisico vogliamo un brano magari adesso mi sono più efficace di tutti comunque questo è qualcosa che possiamo migliorare ferma fuoco scherma acqua quello del teresman l'acciaio però non credo che ci aiuti almeno due bisogna andare tra le giugno niente a fare scherma acqua scherma fuoco scherma fume poi talismano protezione lì l'acciaio giusto lì talismano la debolezza uno spreco qua in fondo lì lì